Non è accettabile che una giornata di festa si trasformi nello sfogatoio di inciviltà, così il presidente di AZSPA Paolo Reginelli, che ritiene intollerabile che il presunto divertimento consista nel danneggiare la proprietà pubblica e i servizi dell'azienda. Sono stati rotti quattro lampioni dell'illuminazione pubblica vicino al campo da palacanestro, rovesciati a terra e rovinati diversi cassonetti dell'igiene ambientale in via Bellandra, in via Divisione Carpazzi e in via Sant'Eusebio, dove i contenitori della raccolta differenziata sono stati trascinati fino al centro della strada. Radicati anche i cestini portarifiuti di proprietà del Comune, ma gestiti da ASET. Abbiamo iniziato subito a ripristinare i danni per quanto riguarda i cestini, tutti che sono stati divelti, i danni che sono stati provocati, mentre invece per le apparati di illuminazione abbiamo aspettato stamattina per capire meglio quello che era successo, per fare in modo di ripristinare tutto nel breve tempo possibile. Come ha già fatto in precedenza, per analoghi episodi, l'azienda ha deciso di sporgere denuncia contro i gnoti. È una situazione che ci ha lasciato un po' sorpresi, perché eravamo abituati a qualche imbecille che provoca dei danni alle nostre strutture e a tutto quello che riguarda ASET. Però di fatto una cosa del genere, in cui una consistente parte di un quartiere viene danneggiata con queste modalità, ci ha lasciato un po' perplesso. Tant'è che abbiamo deciso che, fatta la conta dei danni che avverrà tra oggi e domani, faremo tutto quello che è possibile per far ricadere su questi cittadini, e non su tutti, i danni che sono stati causati. Perché riteniamo che l'unica cosa da fare sia quella di responsabilizzare. Cioè, questi ragazzi se sono maggiorenni, i loro genitori se sono minorenni, perché non ci sembra il modo di poter ragionare e di poter gestire il pubblico, perché questo è pubblico, tutto quello che noi abbiamo è pubblico, quindi sono tutti i soldi dei cittadini, debba essere dilapidato con queste modalità stupide e senza nessun genere di giustificazione.